Diciamo che la Leopolda è un momento di grande festa, dove le grandi professionalità che fanno grande la ristorazione si incontrano per confrontarsi sulla ristorazione del futuro. E' un settore che i dati certificano che ha una grande attrazione di donne, di giovani, dimostra che nel contesto anche della crisi il settore dei servizi è quello che ha mantenuto l'occupazione e lo vedrete con il racconto che faremo con i dati all'interno della Kermess, ma è il settore un po' più maltrattato, dove c'è molta improvvisazione, dove c'è molta banalizzazione. E in questi due giorni racconteremo le criticità, i rischi di un patrimonio gastronomico nazionale che se non affidato nelle giuste professionalità, nelle giuste competenze, rischiamo di perdere quella PIL che ha sempre rappresentato il nostro Paese. Quindi un momento di confronto ad alti livelli dove parleremo del futuro dell'enogastronomia e dove i grandi protagonisti sono pronti a cogliere le opportunità anche dell'artenanza scuola lavoro investendo realmente sui nostri ragazzi. Il decreto fiscale ci ha penalizzato, speravamo anche noi di poter avere dei benefici da poter investire nelle nostre aziende sulla digitalizzazione e sull'innovazione, ma faremo in modo che si comprendesse bene il valore economico e sociale che c'è all'interno delle nostre aziende e lo faremo in questi due grandi giorni.